pesa due quintali costa 250 milioni le pagine sono in pergamena 150 pergamene selezionate su 300.000 pelli di montone 4.000 ore di lavoro per realizzare titoli e iniziali un basso rilievo fuso in bronzo e arricchito d'oro e di pietre preziose fa da copertina il tutto fa pubblicità a salvador d'alì il regista dell'opera salvador d'alì spagnolo ex surrealista ex rivoluzionario si è da tempo arruolato nella legione straniera del misticismo misticismo con fanfare e gran cassa come questa apocalisse il guaio è che a vederla non ci va nessuno o quasi